Benvenuti a tutti, sono Arcadine Ammere e siamo qua oggi per una live che in realtà è un video. Ora vi spiego. Sul mio canale ci sono tantissimi format, come sapete, ma quello che io più apprezzo e che chiamo il mio format di punta, non tanto per le visualizzazioni ma per l'originalità e per il fatto che lo porto solo io, per alcuni potrà sembrare una sciocchezza visto che è un format lungo di 4 ore, però mi piace farlo in live, ovvero le autopsie dei film. Che cos'è? Un'analisi scena per scena delle opere che andiamo a citare. Quindi è interessante e l'ho sempre fatto con altre persone. Ma siccome in questo mese è un po' complicato trovare il tempo, io voglio parlarvi di questo film di cui in realtà ho già parlato sul canale, ma anni fa, ma era un'analisi molto breve, l'ho cancellato, tanto non è che sia molto importante, e lo faccio oggi e lo faccio da solo in questo caso. Prima di andare avanti vi invito a scrivervi, a supportarmi con un like e, se vi va, abbonarvi col tasto qui sotto, due livelli, quello base, che sono due caffè al mese e mi supportate con piccoli vantaggi, quale lettura prioritaria dei commenti anche in live e il supporto che mi date, sondaggi sul canale, il badge identificativo vicino al vostro account, insomma, quando scrivete qua sotto. Quindi direi di incominciare e di introdurre un po' il tema di oggi. Innanzitutto, l'autopsia dei film, che cos'è? Analisi scena per scena di un film, quindi che cosa si fa? Io di solito metto il file Word, come farò anche adesso, ho scritto tutte le scene con i punti salienti. Quando c'è una live molto più lunga, perché vado a parlare di un gruppo di scene e anche gli altri lo fanno, in questo caso sarà più veloce e quindi più intuitiva. Introduciamolo, Predestination del 2014, diretto e scritto da Michael e Peter Spierig, che sono stati riconosciuti come dei talenti di sceneggiatura e io sono praticamente d'accordo. Ora vi spiego il perché, senza andare troppo spoiler, perché c'è tutto un video a disposizione, che sto girando, e poi è stato molto dato dai critici proprio l'aspetto della sceneggiatura, che è quello che più mi interessa in realtà, ed è fondamentale secondo me perché riesce a dare l'idea di una bella sceneggiatura. Vediamo poco, giusto? Diciamo così. E quindi dicevo che trovo interessante questa sceneggiatura che si basa sui paradossi e che in realtà ha molti punti di contatto con le storie degli ultimi anni e anche dei cinecomic, ora ci arriviamo. Il titolo Predestination ci dice tanto e si lega spesso nel racconto della sceneggiatura alla parola Final Destination, che non è il film horror che io ho apprezzato e che ha aperto poi una saga un po' disastrosa, un po' per ragazzini, eccetera, ma c'è l'idea del paradosso temporale, ormai che va molto di moda. Ecco, e cita anche L'Eterno Ritorno di Nietzsche, che non è cosa da poco, infatti questo film è molto più complesso di quello che può sembrare. Diciamo subito che prima di iniziare devo dire che questo è uno dei miei film della vita, che cosa sono i film della vita, sono i film che mi porterei su un'isola deserta cancellando gli alti della storia del cinema. Non è l'unico ovviamente, ce ne sono ben 160 ormai. In realtà io ho portato dei video a 10 alla volta dei film della vita, se scrivete Arkadin Hammer, film della vita, oppure Arkadin Hammer, Arkadin Cult, dovrebbero uscirvi fuori. Che mi tocca tanto l'idea del rincorrere un obiettivo che... sfugge tra le mani. Legato a un clima sci-fi, spesso noir, spesso thriller, dove tu devi riflettere con la tua testa e unire i pezzi come un grande puzzle. Quindi il film riesce poi ad essere molto ben interpretato da uno splendido, sempre. Ita Nook è una sorprendente Sara Snoke. E il film tocca temi scottanti, come si vuole in questi anni. Quindi il femminismo, l'LGBTQ, quindi temi importanti ma anche filosofici. Quindi per questo è uno dei miei film della vita. Quindi è perfetto? Assolutamente no. Ho delle critiche da fare e le farò puntualmente. Scusate ragazzi, ma mi sono fatto un tè perché sto morendo. Ho una sorta di tosse. Ho bisogno di bere qualcosa di caldo. Meglio? Ok. Quindi, fatte tutti sti preamboli, iniziamo. Dai, non perdiamoci in chiacchiere. Condivido il file. L'ho messo qua, si vede abbastanza bene. Ora, io non farò spoiler perché in seconda lettura, se l'hai visto due o tre volte, è tutto chiaro, è tutto perfetto. Alla prima volta mette un po' in difficoltà. È la cosa bella del film. Ora ci arriviamo. Bene, il film inizia con una scena che sarà fondamentale, che poi vedremo. Ma prima c'è un voiceover che parla essenzialmente e indica allo spettatore il nemico di quello che poi sarà il nostro protagonista. Perché il voiceover, senza dire tutte le parole, è the man who ruined your life. L'uomo che ha rovinato la tua vita. Con questa voce fuoricampo, noir, abbiamo subito, ci gettiamo subito nell'azione. Perché c'è un tale che entra in questa stazione, scende in questo, so come chiamarlo, angolo manutenzione. Insomma, fate voi e c'è il nostro uomo che sta facendo qualcosa di losco. Ci appare losco, ma in realtà lui è il buono. Buono in che senso? Deve disinnescare una bomba che lui sa essere lì. Lo sta disinnescando, ma viene fermato da chi ha messo la bomba. E' abbastanza palese, semplice, chiaro quello che sta succedendo, no? Intanto ho apprezzato tantissimo il cambio della DOP, della fotografia. Il giallo, non a caso il banner sotto è giallo. Perché il giallo è fondamentale. Perché abbiamo una illuminazione molto normale. Ecco, al piano di sotto, qua al piano di sotto, incomincia a esserci, sì, la cupezza, ma questo giallo, che forse è simbolo di una via da seguire, ecco che ci torna utile per il paradosso. Infine, mi piace molto questa scena perché questo scontro un po' alla western classico, dove si sparano questi due individui di cui non sappiamo niente e di cui non vediamo il volto di nessuno le due, questo è interessante, si sfidano perché l'uomo che è sceso per le scale e ha disattelato la bomba la vuole mettere in questo spazio, in questa valigetta per neutralizzarla, ma non fa in tempo. E qua c'è lo scontrafuoco che perde e nel salvare la situazione la bomba gli esplode in mano. ho molto apprezzato questa scena che è semplice come regia sicuramente, ma efficace in un luogo anche piuttosto interessante, che ci danno quelle vibes da sci-fi interessante e sofisticato. Bellissimo l'effetto body horror del viso ustionato e vi posso dire che i due registi sono nati come effettisti, quindi effetti speciali, e non mi sorprendo affatto. E quindi c'è questa scena dove lui viene ustionato alla faccia, ma la cosa interessante è che il criminale che sta affrontando si avvicina a lui, o meglio, c'è una figura che si avvicina a lui, che noi crediamo essere il tale di prima, che però non lo uccide, anzi lo aiuta perché vuole il nostro uomo ustionato avvicinare la mano a questa valigetta. La scena di prima era solo un'introduzione, abbiamo che le prime scene vere sono di questo tale che si risveglia, quadratura sugli occhi perché è stato operato per l'ustione e la prima cosa che legge in alto, che lui è steso su questo lettino, sono due bigliettini, che in italiano sono più o meno così. Se ti riesce qualcosa, non farlo ancora, più o meno al senso è questo, e non fare qualcosa ieri di ciò che dovresti fare domani. Quindi questi riferimenti ci torneranno utili dopo perché, nonostante come si intuisce un viaggio temporale, che non viene però spiattellato, le cose si fanno nel giusto ordine perché il paradosso, il paradosso, va bene? Lui si risveglia e nonostante riceva questa seconda medaglia da questi due bodyguard, insomma, di questa misteriosa organizzazione perché è palese, lui è arrabbiato perché chiede della final mission. E qual è questa missione? Lo vediamo chiaramente nella scena successiva, perché lui, come ho detto anche qua, ancora body horror, lui ha tutto il viso ustionato, ecco, ma è stato ricucito, ma non ha più i capelli. Come dirà poi il dottore, lui non ha più la stessa faccia, ma una nuova. E ci sono dei danni, non nel corpo, ma nella mente. E questo ci tornerà utile successivamente. È interessante che l'abbiano messo qua perché da subito ci mettono un foreshadowing che ci fa sospettare di certi momenti. Poi, che questa tecnica sia forse un po' troppo abusata nel film, posso essere d'accordo, ma non qui, perché l'inizio è fondamentale, ci deve inserire immediatamente nel contesto, perché senza quello non possiamo comprendere la parte successiva e soprattutto il finale, perché il film sembra impostare come protagonista un certo personaggio che poi diventa un altro, ma che in realtà è lo stesso. Ok? Ci siamo su questo. Quindi è importante fare un focus su questo Ethan Hawke, che chiamiamo per comodità Ethan, se no non ci, non ne usciamo più. Quindi il nostro Ethan riflette sulle parole del dottore, o meglio, noi riflettiamo sulle parole del dottore, capiamo che il nemico è un bombarolo, che, come è ovvio che sia, abbiamo intuito, se abbiamo guardato la stanza dove è il nostro Ethan, viaggia nel tempo, come anche lui viaggerà nel tempo, ma non è spiattellato, è una cosa che mi è piaciuta, perché magari uno non è stato così attento, va bene? E quindi che cosa succede? La nuova missione, una nuova valigetta, che abbiamo già visto prima, ma che non sappiamo a che cosa serva. Lo vediamo dopo. Quindi il film, nella prima parte, gioca anche sull'essere poco attenti dello spettatore. Chi è stato attento, ha già capito. Chi non è stato attento, avrà un colpo di scena ulteriore, anche se è ben chiaro. Quindi arriva al 6 novembre 1970, in questo bar, dove il nostro Ethan fa il barista. Regia semplice, ma funzionale, ci fa e ci palese, il fatto che lui attenda qualcuno, guarda l'orologio, c'è un focus, quasi un primo piano, un dettaglio, quindi è interessante questo, però non si dice cosa stia aspettando. Ma lo capiamo perché arriva questo tale, questo effemminato, però diciamo una sorta di Oscar Wilde, infatti uno scrittore, dei modi effemminati. Infatti passa davanti e c'è un gruppo di scimmioni che beve la birra, che fa fricks, fricks, ma lui non fa un fiato, elegante, raffinato, spavaldo e siede al bancone. E questo fa, questo tale, che chiameremo scrittore. Scrittore fa, ma tu sei nuovo a Ethan? Mmm, sì, sono nuovo, lavoro qua da poco, ma che ci fai? E questi incominciano a parlare. È interessante perché il film riesce a non farti capire immediatamente il senso di quello che sta succedendo. È vero, tu sospetti che Ethan sappia qualcosa perché è fin troppo consapevole della vita di questa persona, però non sai bene che cosa voglia. E poi c'è il tema del Daudess che torna dopo, cioè noi serviamo per gli scopi di qualcun altro, ma per saperlo dobbiamo arrivare alla fine. Non possiamo saperlo prima, perché se no faremo scelte sbagliate secondo il paradosso. Quindi, vabbè, interessante perché questo tale, interpretato benissimo da Sarah Snoke, che era anche il ruolo maschile, cosa fa? racconta che uno scrittore scrive delle storie per una rivista femminile, che sono sciocchezze, e lui fa, Ethan, ma è il woman angle, no? Io ti leggo, no? Dice lui, tira fuori la rivista, ma sei bravissimo, no? E come ho detto prima, molto apprezzato il fatto che sembri una discussione casuale, no? Ethan, che poi è molto bravo a fare il tipo divertentello, quel barista che ti vuole far parlare, no? Lancia pure questa sfida, dice, ti offro qualcosa se mi racconti qualcosa di te. E c'è questa sfida, no? Se la storia di questo tale, che non ha detto il suo nome, questo scrittore, sarà abbastanza interessante, Ethan Hawke gli darà questa bottiglia di, non lo so, alcol molto pregiato. Nel caso non sia così interessante, lo scrittore dovrà pagare 20 dollari. Anche perché Sarah Snoke, che interpreta questo scrittore, è molto brava, perché riesce a rendere lo sguardo consumato dal dolore di chi ha visto un po' tutto lo schifo del mondo. Come si dirà, perché in sottofondo c'è la televisione che parla del bombarolo, quindi noi ci attiviamo e si dice già che sono 5 attacchi e che molti stanno lasciando la città di New York, mi pare, sì. E quindi è interessantissimo questo aspetto che è di sottofondo ma che cresce, 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 no? E quel film è molto abile nell'introdurci questi personaggi e quindi c'è il racconto della vita di merda del povero scrittore, anzi. Non facciamo spoiler. Incominciamo. E di che parla? Del fatto che è stato abbandonato, abbandonata in quel caso, perché il suo nome è Jane e quindi è una che ha fatto un intervento, si capisce, cioè è passata da esser donna a uomo, per questo ha il woman's angle quando scrive, e quindi c'è la narrazione del suo passato, della sua adolescenza, della sua ubertà. Ho amato molto questa parte perché da un lato ci distoglie dal vero centro del film, perché è essenziale questa introduzione, ma dall'altro ci racconta una storia bellissima e delicata, non è spiattellata. Il film avrebbe potuto farlo, ma è molto delicato, cioè tutti i temi più scottanti sono scottanti, ma sono in funzione di un racconto che punta verso alto, per cui alla fine del film tu ti rendi conto che non fanno lo smonologone, non c'è bisogno, perché chi lo guarda e apprezza questo film è uno spettatore intelligente, non ha bisogno dello smonologone politico, è tutto già dentro il film, basta farsi due domande. Il film si apre con il ricordo, diciamo, il racconto di lei che il 13 settembre del 1945 lei venne abbandonata davanti alla porta dell'orfanotrofio dove venne poi cresciuta e qua si spiega con una veloce, rapida successione di eventi che lei è sempre stata una bambina speciale e che non è mai stata accettata, era sempre vista in cattiva luce dagli altri, c'era del bullismo in questo orfanotrofio, però mi piace qua la regia che è discreta con una bella location e queste musiche che spingono la narrazione e questo racconto con questa voce un po' nasale, un po' arnauca perché lui è diventato uomo. Ma la cosa strana è che poi si lega con la parte successiva è che noi vediamo questa ragazzina molto bella ma lei dirà sempre no, io non venivo accettata, nessuno mi ha mai detto che ero bella e quindi è un'esclusa, è un freak un po' come è stata trattata quando è entrato nel locale il nostro scrittore. È interessantissimo. E come ci viene mostrata questa sua grande forza d'animo che non è una remissiva, è una tosta perché ha delle abilità che vedremo dopo. Come lo vediamo? Nella scena dell'auto dove lei cerca un ragno simbolo di una ossessione malata perché il ragno è sempre visto in questa veste e spesso è legato al passato e alla genitorialità. Spero si dica così. Infatti il ragno la porta fuori sulla strada mentre guarda una bambina che sta con la mamma che pende il gelato e lei vorrebbe aver conosciuto i suoi genitori ma non può e quindi vai in mezzo alla strada e rischia di essere investito. Il guidatore dell'auto se la prende con lei e lei di conseguenza gli rompe il fanalino davanti delle luci. Qua ci fa capire subito che tipo è. Qua si nota i primi momenti anche uno dei grandi difetti del film perché questi due sono dei bravissimi sceneggiatori ma non sono dei registi forti con una forte impronta quindi non riescono a rendere il film abbastanza coinvolgente dal punto di vista visivo non tanto dei colori la scelta delle location eccetera ma non c'è un bel movimento di camera se all'inizio andava bene qui anche dopo la parte centrale essenzialmente è un po' troppo statica nonostante il montaggio alternato questo è un problema ve lo dico subito comunque mi è piaciuto molto lei cresce e a scuola fa un po' quello che ha fatto nella scena precedente solo che qua rischia di essere picchiata ma lei reagisce è più forte è più tosta e anche a scuola è bravissima quindi ha tutte quelle abilità che la renderebbero speciale ma perché non è speciale perché è un freak perché non è una donna come dire dei suoi anni cioè degli anni 60 perché 45 aveva 15 anni circa gli anni 60 sì perché poi è nel 63 quindi ok anni 60 non è una donna servizievole qua c'è un manifesto femminista molto ben inserito che magari fatto oggi e se fosse stata ambientata la vicenda oggi si è preso un po' di da scalico ma qua siamo nel 60 nei USA è perfetto infatti si vedrà lei che riflette sul fatto che tutti sono stati adottati nell'orfanotofo ma lei no e non ha neanche delle proposte di matrimonio perché è un tipo troppo rude troppo tosto troppo tutto quindi non potrà mai c'è una scena molto intensa secondo me nel dormitorio dove ci sono tutte le ragazze dove lei a un certo momento decide di non specchiarsi più di non curarsi più di non essere e di non tentare quello che tutte le ragazze a quell'età vogliono fare attirare l'attenzione dei maschi perché lei dice nei suoi monologhi che ha uno stanno rapporto con il sesso non si capisce bene e arriva il momento importante perché lei è diventata grande cosa succede che mister Robertson come poi scopriamo dopo baffetto come chiamo io che è un attore che è molto bravo che apprezzo che è Noah Taylor ecco il nostro Noah Taylor propone alla ragazza un lavoro speciale fatto per le sue abilità perché ha scoperto che lei è molto brava ma che ha questo carattere fumantino e quindi baffetto il nostro Robertson cosa fa dice vieni e candidati in questo Spacecom questo progetto governativo perché sappiamo che tu vuoi andare nello spazio puoi andare nello spazio quindi incredibile uno dice ah vedi che ci sono queste idee del governo americano per aprire anche alle donne queste opportunità ovviamente è un trucco perché qua viene smascherato un po' il sistema americano nelle sue furberie nei suoi trucchi perché essenzialmente stanno cercando delle mogli per gli astronauti perché essenzialmente vogliono che questi astronauti abbiano delle non lo so delle dame di compagnia non lo so delle segretarie lì quando salgono su e quindi quali sono i requisiti essere donne vergini con questo come dire colloquio primo colloquio davvero imbarazzante anche con una buona regia qui che ci fa sentire l'imbarazzo di lei che cerca di essere un po' più femminile le dicono si tolga gli occhiali per vedere se è bella e qua ci ricolleghiamo a una frase che ha detto prima il nostro scrittore che ormai le donne in quel periodo sono scelte per le tette grandi e le labbra gonfie quindi per degli accessori non tanto per il cervello e qua le dicono si tolga gli occhiali per vedere che effetti per notare che è una bella donna quindi dicono qua è stato interessante che la portiamo ovviamente non tutte le donne vanno bene ma quelle interessate ad andare nello spazio oppure le donne un po' disperate cioè quelle che non hanno un futuro e che sono vergini una cosa assurda stranissima vabbè quindi c'è una selezione e si decide che è essenzialmente un numero ristretto 20 non lo so possono fare la selezione una selezione che deve tenere conto del fatto che deve andare nello spazio quindi di conseguenza devono avere tutti i requisiti degli astronauti la forma fisica giusta eccetera eccetera devono essere sicure di sé non devono mollare devono avere spirito di sacrificio eccetera eccetera questo è molto interessante ma 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 che succede che siccome c'è la solita rissa fra donne lei si difende e viene squalificata per quello che lei pensa sia la rissa ma noi sappiamo a fine finché non è per la rissa che è stata esclusa essenzialmente lei viene sbattuta fuori dopo tutta sta fatica mesi e quindi qui c'è l'idea del ma noi che stiamo facendo della nostra vita e si ricollega a una frase che ha detto sempre il nostro scrittore prima in precedenza cioè del ma io sto bombarolo in realtà non è che c'ho paura anzi se elimina un po' di persone fa anche fa anche bene una cosa che ci torna utile dopo va bene quindi cosa succede che lei è sbattuta fuori e deve lavorare per vivere e fa un lavoro umile lavora in una casa qui il problema secondo me è che la regia è troppo sbrigativa cioè non riesce a sintetizzare bene queste scene non tanto per quello che succede che è fondamentale importante ed è ben sintetizzato in quello che racconta ma la regia non riesce a essere coinvolgente quindi paio delle scene un po' attaccate al montaggio non c'è quel senso di avete capito no? dell'essere avvolgente il lato tecnico questo manca un po' quindi Jane deve fare la domestica tutto fare in una casa dove scopre delle riviste per donne dove si scrivono queste storielle cosa che ci tornerà utile dopo e qua c'è il magico incontro perché va anche a una scuola serale dove uno pensa insegnano non lo so le scienze o no come come mangiare a tavola come essere una donna maritabile uso questo termine improprio ecco da sposare qual è il bon ton per le donne negli anni 60 altri che vogliono farsi sposare dagli ricchi signori e qua c'è di nuovo quest'idea che abbiamo detto prima e qua c'è l'incontro è fondamentale che nelle riprese del suo racconto non si mostra mai chi sia l'uomo ed è molto veloce quel racconto perché poi ci tornerà utile dopo è interessante qua che sia molto veloce ecco perché sarà il suo amante e anche il padre del suo bambino mi piace comunque l'alternarsi questo presente fra virgolette dove sono dentro al bar nel 75 e questo del 63 si cambia location quindi stanno giocando a biliardo può funzionare va bene molto basilare però funziona cosa succede? che le racconta che dopo questa vicenda mister Robinson il baffetto è tornato per offrirle un altro lavoro che potrebbe essere quello finale ma ecco è un gioco strano perché sappiamo che è tutto già scritto quindi ci riflettiamo dopo su questo va bene? ma succede che l'uomo con cui lei ha avuto questa relazione scompare e puff ha lasciato il suo ricordino cioè lei è rimasta incinta quindi questo lavoro salta perché non può e c'è il parto e lui lei anzi qua ancora Jane e qui c'è una scena che mi ha molto colpito sin dalla prima volta che ho visto il film perché è inaspettato mi ha fatto saltare dalla sedia perché infatti il medico il chirurgo che l'ha operata dice sì il bambino sta bene è a posto ma lei ha un problema in che senso? e lei deve sapere che dentro di lei aveva sia l'utero femminile che i genitali maschili essenzialmente questa rarissima malattia che viene spiegata nel film questo è genial quindi strano lei che rimane là ma che cazzo succede? una scena molto forte molto intensa che mi è piaciuta perché la rende ancora più freak in un mondo che non avrebbe mai accettato una cosa del genere infatti le dice il chirurgo sia tranquilla che abbiamo tolto l'utero quindi lei diventerà un uomo nel caso facesse questa scelta obbligata non avrà problemi è interessante ma c'è un'altra notizia ancora più sconvolgente che chiude questo terribile momento della sua vita il periodo della sua vita ovvero che qualcuno ha rapito il bambino e quindi chi è? il padre del bambino stesso forse lei sospetta questo ed è logico pensarlo lo pensiamo anche noi qua è una bella scena entrambe le scene sia del medico che poi del bambino rapito perché sono intense qua la regia è di nuovo di livello va un po' a scatti questa regia a volte è molto basic a volte si impegna a volte no questo è un po' il problema del film comunque ed è bellissima la scena davvero toccante davvero profonda davvero che ti entra dentro quando lei prova a mascherare la voce perché nonostante prenda gli ormoni è ancora una voce femminile quindi cerca di fare un po' come De Niro in Taxi Diver che prova davanti allo specchio ma qua scende una lacrima perché la voce non è abbastanza maschile ma poi arriverà poi c'è il riferimento dello specchio che abbiamo già visto all'inizio se vi ricordate mi piace molto l'intento ma quella musica consolatoria è un po' invadente in quelle scene avrei preferito il silenzio devo essere sincero piccola nota di demerito va bene c'è una frase che ci tornerà utile dopo quando sono nel presente del bar il nostro Jack che si chiama Jack quindi il nostro scrittore dirà al tempo nel riflesso dello specchio quando sono diventato uomo ci ho visto quello che mi ha messo incinta qua sembra una frase che viene dal cuore dalle emotività in realtà è vero quindi perfetto ed è inquietante molto inquietante quindi come ho detto prima c'è questo riferimento al dow des cioè noi siamo strumenti per favorire gli altri e viceversa cosa che un po' è il centro del film arriviamo poi all'ultima scena va bene ma la cosa che mi ha fatto impazzire nel presente è come lui Ethan si scusi con non lei con lo scrittore ma lui si scusa davvero dal cuore lei pensa che sia l'I'm sorry poverina poverina no in realtà capiamo dopo che lui è costretto il nostro Ethan a fare delle cose terribili quindi ok è interessante la regia perché fa questi pianieri avvicinati un po' dal basso che davvero funzionano un bel guizzo registico va bene per cui c'è quella scena che mi ha molto colpito quando lui fa la pipì da uomo per la prima volta è forte elemento forte e coraggiosissimo come ho detto prima il film fino a qui sembrava di un certo tipo nel senso che la storia su questa donna diventata uomo molto toccante molto ben interpretato ma il film ovviamente si ricollega con la part action che abbiamo visto all'inizio e qua c'è una scena che mi è piaciuta per la sua naturalezza non è spinta troppo cioè quando un tale ubriaco perché è quello Ethan ti fa il propostone e ti dice tu vuoi uccidere l'uomo che ti ha messo incinta io te la posso consegnare se fai qualcosa per me io ti darò questa opportunità e la porta giù in questo scantinato è inquetantissima quella scena perché tu non capisci cosa vuole fare questo Ethan è un pazzo è uno stupratore è il è il bombarolo magari se lo dicono pure chi è il bombarolo ah sei tu un po' per ridere un po' perché è c'è questa tensione che bisogna scongiurare e c'è il salto nel tempo ora io apprezzo molto quella scena dove lei non capisce bene cioè lui non capisce bene quello che succede lo scrittore ed è tutto molto naturale perché poi il salto nel tempo non è traumatico è loro che scompaiono un effetto che ho molto apprezzato no? e quando lui le spiega le cose certo ha una prima visione può sembrare un po' facilona come scelta che lei non dica niente ma lei si è resa conto che sono davvero nel passato ecco perché Ethan sa un sacco di cose sullo scrittore e su Jane no? e quindi lei dice ma io ho una scelta do I have a choice ho scritto male choice sicuramente incontra se stessa pensando di dover incontrare l'amante di Jane cioè di lei nel suo passato e di ucciderlo li capisce capisce e si innamora di se stessa è bellissimo è poetico e Sarah Snow che è fantastica nel fare Jack e Jane splendido anche dopo nelle scene successive senza che ci fermiamo scena per scena ma anche la scena al tavolo è bellissima perché Jane dice ma tu non mi conosci eppure fai tutto il fenomeno caro bellissimo uomo pieno di soldi ma Jack conosce Jane perché lui stesso o lei stessa dipende è un momento molto toccante quello fa nascere la storia d'amore e quindi tutta l'idea del lei è stata usata come scopo sessuale da questo amante nel suo passato in realtà non è più così e noi ribaltiamo nella nostra testa quest'idea straordinario secondo me questa parte è davvero straordinaria in montaggio alternato con un qualcosa che ci serve per la trama lui che va nel 70 per fermare il bombarolo che è un po' la scena di inizio ma non è proprio la scena iniziale e no perché è la prima parte della scena iniziale perché lui sa di quel capannone di quel posto sotterraneo insomma semi-interrato quello che è ci arriva qualche minuto prima ma perde lo sconto con questo bombarolo che gli toglie la pistola non lo uccide fondamentale e lo capiamo alla fine perché non lo uccida e con la sua pistola spara al se stesso della prima scena ed è l'Itan che è andato nel 70 che salva il se stesso della prima scena ustionato e uno può dire beh ma si è tolto un po' il mistero si poteva fare il colpo di scena finale ci sono alti colpi di scena sul finale è bene che lo spieghino queste cose se no fai la fine di Dark terza stagione perché non si capisce una minchia di niente oltre al fatto che ci sono queste cassette che lui regista per se stesso nei vari anni un po' come si fa anche in Buddies che ho portato sul canale serie Netflix di altissimo livello e anche in Dark sì mi pare quindi funziona tantissimo quella parte ma lui deve concludere la sua missione ovvero andare nel 65 e deve rapire la figlia di Jane e di e di James il bambino che è stato rapito è lui che lo deve rapire e portare nel 45 oh mio dio boom la testa esplode non tanto perché sia difficile da capire ma perché a livello morale qualcosa di assoluto di pazzesco ma prima del rapimento del bambino c'è un discorso fondamentale e qua c'è una grande sceneggiatura lo vediamo in questa scena con Baffetto che mi sono dimenticato il nome Robertson sì Robertson fa al nostro al nostro eroe al nostro Ethan fa Ethan ma perché sei andato nel nel 70 è illegale illegal jump no perché cosa si dice se tu viaggi troppo nel tempo rischi danni alla memoria come succede come era stato detto dal dottore nella prima scena quando lui tornava no ustionato dopo l'ustione attenzione lui fa Ethan no ma sto benissimo stai tranquillo sto benissimo anzi è valsa la pena perché finalmente questo loop dove non non capiamo mai chi fosse il bombarolo ho trovato un pezzo della bomba che prima non avremmo mai potuto trovare essendo che io sono stato ustionato e me ne sono andato dal luogo del misfatto invece così ci sono ritornato e quindi è positivo e qua c'è una discussione filosofica bellissima sul paradosso Robertson dice Ethan tu devi stare tranquillo perché tu sei il dono maggiore che abbiamo nella nostra organizzazione Baffetto dice che comunque questo è un paradosso e noi per scoprire il paradosso dobbiamo arrivare fino in fondo e dobbiamo vivere quelle esperienze se no non possiamo avere la consapevolezza di quello che succederà e quindi ancora la domanda esiste o no il libero arbitro chiaramente il film ci fa capire che non esiste il libero arbitro e questo è una sorta di come vediamo meglio nel finale di eterno ritorno di Nice quindi lui si sente speciale fa virgolette Ethan vi viene detto da parte del nostro Robertson ma fa una domanda il nostro Ethan fa Ethan fa ma nel momento in cui io mi rendo conto del paradosso non sono più libero non posso più agire sugli eventi senza il peso del paradosso stesso e quello risponde vabbè viviamo un giorno alla volta come per dire fin quando non ci arrivi a quella consapevolezza del del fatto che tutto è un paradosso e tu non sei libero poi poi vedrai che cosa fare ma intanto fai il gioco del paradosso eh fantastico è una cosa bellissima questa stiamo finendo ragazzi stiamo finendo è un po' pesante poi parliamo un po' sulla storia e sul finale c'è una scena staziante che lui tornando nel 63 deve costringere tra virgolette ehm James a lasciare Jane di cui si è innamorato cioè di se stesso perché è l'unico che ha saputo amare Jane cioè se stesso vabbè è paradosso unico in quel mondo dove lei non veniva attenzionata resa speciale da nessuno è se stesso che la salva è lei stessa che lo salva è un po' difficile per me fare un discorso con lei egli se usare il se insomma avrete intuito quindi c'è quella ammazzare ma vuole ammazzare anche lui perché non se ne vuole andare però il nostro Ethan riesce a convincerlo va bene e vanno nell'85 cioè il tempo che si può dire presente cioè dove c'è questa organizzazione che viaggia nel tempo e siccome il nostro Jack ovvero Jane che ha subito l'intervento non è abituata a viaggiare in vent'anni di vent'anni in vent'anni deve essere ricoverata e quindi il nostro Ethan si può può andare in pensione no? un po' così triste perché non ha tolto il bombarolo ma vuole andare in pensione ma cosa fa il nostro mister Robertson gli dà anche delle informazioni buone dice vabbè abbiamo trovato comunque delle piccole informazioni su quel pezzo di bomba che c'è dato portatelo mister Robertson ci prendi per culo a noi spettatori poi ci arriviamo su sto mister Robertson eh vabbè quindi il nostro Ethan se ne va a farsi la sua vacanza meritata che poi che è negli anni dove il bombarolo ha colpito fra tutti gli anni che poteva scegliere un po' forse per senso di colpa per il senso di colpa sicuramente sì e va in pensione il 7 gennaio del 75 quindi fa per non lo so accettare le dimissioni toccando la valigetta ma la valigetta dice error è palese deve ancora chiudere il giro che non si chiuderà mai una cosa interessante Baffetto parla del bombarolo non tanto con disprezzo e fa il nostro Ethan cioè perché dico Ethan dice ma tu lo ammiri e guardando il nostro Ethan Baffetto Robertson dice è grazie a lui che abbiamo creato questa organizzazione a Robertson si prendi per culo eh con quella faccia lì ma sul serio va bene andiamo avanti la valigetta fa errore e quindi lui ancora non ha capito bene quello che però scopre che da quella piccola informazione che gli ha dato Robertson così per caso può arrivare proprio in quegli anni nell'anno in cui si è pensionato ma guarda un po' a scoprire che è il bombarolo e va in questa lavanderia scena bellissima dove scopre del bombarolo è lui stesso il bombarolo chiamiamolo così dice guarda io ho salvato delle persone c'è proprio il giornaletto con tutte le cose no qua ho salvato 500 persone eccetera ma come le ha salvate? con dei danni accidentali collaterali e quindi Ethan dice ma tu lo sai sì hai salvato 3000 persone qua 250 qua eccetera ma ne hai uccise 10.000 di là e come funziona? tu sei la giustizia cioè non non hai più un codice morale non come funziona? e fa eh beh ma per il bilanciamento e poi il paradosso stesso dice che ha ragione se io bombarolo sono te che diventerai come me quindi io sono legittimato a fare quello che faccio qua è proprio la pazzia più 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 totale l'unica cosa che non mi è piaciuta di questa scena bellissima è proprio il fatto che per fare il bombarolo lì tan pazzo l'hanno reso un barbone Titan è tutto truccato forse è un po' eccessivo ecco l'avrei reso un po' più particolare meno di da scali come lo sarei aspettato in giacca e cravatta magari che fa dei discorsi in gran stile invece proprio un barbone che è impazzito che non si fa la barba eccetera vabbè non fa niente quello che mi piace è però il discorso del nostro bombarolo che dice guarda tu non puoi uccidermi che io sono te e quindi vogliamo fare le cose insieme che in due siamo bravi tutte e due essendo la stessa persona poi lancia la bomba quando capisce c'è la bomba in senso metaforico quando capisce che il nostro Ita non è convinto di questa cosa anzi lo odia perché è la missione della sua vita cercare di uccidere il bombarolo dice ma guarda se tu mi uccidi tu diventerai come me perché sarai ti renderai conto che il paradosso esiste quindi tu non sei libero e infatti Ita lo uccide e nel finale quell'ultimo sguardo che Ita noc lancia alla camera dove prende consapevolezza dell'essere il bombarolo e da lì farà e imposterà il piano che poi farà nascere tutto credo che sia importantissimo perché ti fa capire che da un lato lui vuole liberarsi dal paradosso ma dall'altro deve renderlo vero in modo che lui stesso possa nascere deve chiudere il cerchio in questo senso la scena precedente mi ha ricordato un po' la copia bellissima dell'idea di The Flash con Ezra Miller no? fine se vi ricordate il Flash cattivo non è davvero cattivo lui ci diventa perché vuole salvare la situazione ecco più o meno è lo stesso concetto che lì è espresso un po' maluccio un po' veloce qua è molto molto chiaro quindi andiamo a capire bene come sono stati sviluppati i passaggi perché il finale è aperto ma è chiuso nel senso che l'ultima scena è il punto di inizio di tutto il film perché lui il nostro Ethan diventerà il bombarolo che farà partire tutto per cui nell'85 verrà creata questa associazione insomma questa azienda che può viaggiare nel tempo eccetera eccetera e quindi Mr. Robinson ora ci arriviamo intanto dobbiamo capire chi è chi abbiamo chi il bambino del 45 chi è? è il figlio di Jane e di James no? infatti il bambino ha sia i genitali maschili che l'utero femminile chiarissimo no? ma il bambino è tra virgolette colui che deve crescere per far diventare Jane e James incredibile no? ma allo stesso tempo vabbè chiaro che James sia Jane che è diventato uomo questo è abbastanza chiaro a prima visione ma Ethan chi è? è perché noi scopriamo che James diventa soldato insomma diventa agente di questa super società tecnologica dell'85 ed è proprio il nostro James che viene dal dal passaggio di sesso di Jane che con la faccia bruciata poi diventa Ethan che Ethan in realtà l'unico cambiamento che ha è la faccia perché lo vediamo con i tagli che ha sul petto anche lui ha subito l'operazione e che il bombarolo è Ethan che in realtà è James è questo che ha bruciato la faccia che è andato in pensione e che ha scoperto che non si può sfuggire al paradosso uccidendo la sua versione alternativa possiamo dire così e uno potrebbe chiedersi però non tornano tanto gli spostamenti di corpo in realtà no perché riflettiamoci un attimo il bambino cresce e diventa Jane è qua chiarissimo Jane diventa James va bene James diventa Ethan ci siamo e Ethan diventa il bombarolo ok questo è chiaro ci siamo su questo perfetto vediamo però come è possibile ci sono più versioni della stessa persona perché è sempre uno il bambino è il bombarolo sempre lui no solo che arriva prima o dopo fuori dal tempo però perché qua si viaggia nel tempo qua noi abbiamo due persone il bambino che diventa Jane James e Ethan e poi diventa il bombarolo è uno ok l'altra persona invece è il Jane che diventa James del bar quindi quando Ethan va in pensione c'è un altro personaggio che è James agente per cui questo diventa bombarolo è il nemico poi abbiamo il buono cioè James che poi si farà bruciare la faccia e diventerà l'Ethan buono avete capito dai l'unica domanda che io mi faccio dopo la seconda visione è questa ma il signor Robertson il simpaticissimo baffetto interpretato da un bravissimo Noah Taylor lo sapeva per forza sapeva tutto questo se no non aveva senso fare questo film ora io mi faccio una domanda birichina forse Noah Robertson è semplicemente uno che sa le cose e basta no è lui che a malincuore fa fallire Jane per far sì che poi lei venga messa in cinta da James eccetera eccetera quindi è lui che spinge tutto ma io ho un brividino a pensare che forse il nostro Robertson potrebbe essere lo stesso Ethan o James dipende lo scrittore per intenderci che ha subito un altro trattamento facciale è un po' difficile da spiegare perché ci vorrebbe quindi un altro viaggiatore che si è smarrito e quindi sarebbe difficile spiegare perché sono tre e non due perché due si spiega come vi ho detto no però con tre è un po' più complicato ma diciamo che Robertson è uno che è a capo di quella divisione e sa perfettamente che le cose devono andare in quel modo ah non ho detto che il nostro Ethan in pensione impazzisce diventare il bombarolo perché viaggendo nel tempo troppe volte per spirito di iniziativa quindi con il legal jump cosa fai impazzisci perdi la memoria e quindi poi diventi qualcosa che non dovessi diventare in chiusura in chiusura questo film per me è magnifico dal punto di vista della sceneggiatura lo adoro lo amo per le riflessioni filosofiche che sono inserite molto bene e che ti fanno riflettere non è un film action che cerca di spacciarti l'action per un qualcosa di intellettuale è un film intellettuale che usa tecniche sci-fi noir oniriche eccetera eccetera per parlarti di questa cosa della predestinazione e dell'eterno ritorno di Nice una cosa che ho molto apprezzato e in allegato insomma attorno ci mette temi come l'LGBTQ quello della donna negli anni 60 in America e la consapevolezza dell'essere umano di essere solo e quindi l'incomunicabilità che non è cosa da poco perché sì Antonioni ma tanti registi mondiali trattano questo tema l'essere un freak un diverso isolamento l'essere umano non riesce se non con la violenza a imporsi sugli altri e crea dolore e crea i mostri non solo i mostri perché ti vesti male ma i mostri che poi portano alla violenza quindi in questo senso il film è assolutamente di livello certo le pecche ci sono come ho detto la parte iniziale e finale è anche diretta molto bene molto bene ma la parte centrale quando c'è il racconto di Jane è un po' troppo lenta nel senso che la regia non riesce a valorizzare sempre quasi mai in realtà i momenti più importanti se i due fratelli ci fossero riusciti il film sarebbe stato apprezzato da tutti e se ne parlerebbe molto molto di più quindi io questo film ho un bel 7 7 più perché mi ha colpito davvero tanto ma nonostante i difetti e le grandi interpretazioni perché i difetti sì Sara Snoke che fa tutti questi ruoli diversi non è mica facile Itanoku sul finale spinge tantissimo perché alla fine sono tutti la stessa persona quindi è questo questo che volevo dirvi voi l'avete visto o siete qua solo per sentire gli spoiler le spiegazioni del film che ho dato che penso siano giuste perché è leggibile non è quel film simbolico dove poi tu arrivi tipo il ragazzo e l'airone e dici ma io non ho capito che cosa vuol dire film se lo sai leggere è abbastanza chiaro tutto qua va bene?